Si sta pensando di approvare la legge e di fare, proprio con i diritti, il bono e l'essere umano, proprio questa peculiarità, la peculiarità di comportamento, in realtà, l'essere umano. Cioè, il discorso del come parlerebbe la cinque di Puglino Inverdiana e come comunicherete di quelle che sono poi, che dovrebbero decidere insieme alle altre tv, che c'è lì, c'è lì, l'autore fa una separazione tra bonobo, scimpanzee o ragionato, devono decidere se farsi preparare a livello legislativo legale agli uomini, proponendogli delle, lo sconso di scrivere di Puglino Inverdiana, quindi ho bisogno di un discorso di domanda, un'immagine psichica, che non necessariamente è l'immagine psichica che l'autore ha dentro il momento. Quindi abbiamo ragionato per più di due giorni e abbiamo cercato di legare molto, per esempio, l'aspetto al modello, chi è il lettore in parola e qual è chi è l'obiettivo, è un vero a circa decenni oppure è la signora con il cappello enorme e la maestrale a prendere il sole e decide di leggere e divertirsi. Ma perché c'è questa affronta con la presenza che mi ha fatto? Ma anche con i professori stessi c'è, no, no, ma meno male che c'è, per esempio delle mie cose che mi hanno fatto bene, è l'esplosione. Italiano Iman Sanatore, onorato in Florenza, Berriota, Plata, hanno esperato tutte le prove rispitte dall'oltre amministrati, esaminata, disposta e approvata, presentata, ha deliberato di assegnare effettivamente a Italiano Iman Sanatore, punti 98 su 110, a Conradio Lorenza, punti 110 su 110 e a Periola Aula, punti 110 su 110. a Italiano Iman Sanatore, a Onorato Lorenza, ecco, vi bacio accademico, e a Berriota Paola. Grazie. Grazie.